Ciao, sono Cecilia, ho 24 anni e sono una studentessa. Sono una ragazza che è sempre stata caratterizzata da una pelle estremamente chiara, molto sensibile, in particolare negli ultimi anni ho notato essere una pelle tendente al secco. Perché ho deciso di contattare una face coach come Tatiana? Perché volevo conoscere un qualcuno che potesse darmi un trattamento idoneo alla mia tipologia di pelle. In particolare perché nell'ultimo anno ho notato sulla mia pelle delle bollicine e dei continui arrossamenti, in particolare nel periodo invernale. Bollicine che io erroneamente pensavo fossero dei comuni brufoli e addirittura ho iniziato a pensare fosse un accenno di acne. Quando ho conosciuto Tatiana mi ha aperto totalmente un mondo. Perché? Perché mi ha spiegato innanzitutto che le bolle che io erroneamente pensavo fossero brufoli fossero in realtà il risultato di una cattiva idratazione della mia pelle. Nonostante sia sempre stata comunque una persona che ha sempre curato nella maniera più idonea la propria pelle, quindi mettendo creme mattina e sera, detergiando comunque il viso frequentemente, mettendo comunque una protezione solare elevata durante il periodo estivo. A parte il fatto che Tatiana è caratterizzata da un'estrema gentilezza, la sua professionalità e competenza in materia è percettibile sin dai primi minuti che la si conosce. Perché mi ha aperto un mondo? Perché appunto mi ha spiegato che quelle bollicine era un risultato di una cattiva idratazione e come anche le mie stesse occhiaie fossero il risultato di una cattiva idratazione. Idratazione che deve venire, prima di tutto, dall'acqua. Quindi mi ha spiegato che evidentemente bevevo pochissima acqua, che era necessario ne bevessi molta di più. In particolare la sua competenza in materia le ha permesso di effettuarmi il trattamento Luxury Diamond, nonostante l'estrema secchezza della mia pelle. Mi ha spiegato quanto sia fondamentale una corretta detersione, una corretta idratazione, sin da quando si è giovani, per evitare appunto, possiamo dire, un invecchiamento precoce. Mi ha spiegato come una sorta di grigiore che presanto vicino alle labbra fosse anche questo il risultato di una cattiva idratazione, quando io pensavo addirittura fossero rughe di invecchiamento. È stata, a parte, un'ora piacevolissima, è come entrare in paradiso. Se dovessi veramente consigliare una face coach per me sarebbe Tatiana, perché, ripeto, la sua professionalità e le sue estrema competenze in materia sono veramente caratteristiche che la contraddistinguono da tutti. e per me è stato veramente un grande piacere conoscerla.